Qui nel cuore di San Bellino è stato realizzato un impianto sportivo dedicato ai giovani per la ginnastica calistenica che sta conquistando un sacco di ragazzi. Cosa ci può raccontare Sindaco? Allora è nata in un dialogo all'interno della giunta ma anche del consiglio e l'avevamo messo nel programma elettorale e abbiamo pensato proprio di realizzarlo in questo periodo perché è un periodo di transizione, cioè stiamo uscendo da una fase che è la fase della pandemia, i ragazzi noi speriamo tornino a vivere l'esperienza all'aperto e quindi ci stiamo avvicinando alla primavera e l'obiettivo è proprio che vivano esperienze relazionali facendo sport e quindi qualcosa di sano che rinforza anche i muscoli e contemporaneamente la voglia di relazione. E' già arrivato qualcuno qui? Hanno già provato? Devo dire di sì e inoltre devo dire che hanno chiamato in comune per capire se era libero l'accesso, quindi gente probabilmente e sicuramente di altre realtà territoriali e quindi chiaramente è libero, è libero l'accesso, chiunque può venire, è all'interno di un parco da 8 mila metri e uno può oltre a questo fare altro e divertirsi. E attraverso un QR code riescono a trovare i loro esercizi? Certo, qui abbiamo ogni esercizio ha un'indicazione molto chiara, quindi non c'è un istruttore ma può in qualche modo il ragazzo o la persona avendo solamente l'app per scaricare l'informazione avere un'indicazione personalizzata per poter fare l'esercizio. E anche questo è un elemento in più che permette anche al principiante di iniziare a lavorare con questi strumenti che diventano effettivamente importanti per il rafforzamento della loro forza e quindi anche a livello fisico possono aiutarlo a rimettersi in forma. Questo è l'ultimo impianto sportivo realizzato da voi del comune di San Bellino per le fasce ed età giovani, ma avete incentrato questo lavoro anche su altre fasce ed età? Sì, devo dire di sì. Abbiamo un impianto sportivo molto grande con una tensostruttura che permette a persone di diverse età di fare diversi tipi di sport ed è adattata anche alla disabilità. Ci sono corsi legati anche ad aspetti molto particolari, anche alla difesa personale per disabili, cose molto innovative, ma contemporaneamente abbiamo realizzato un parco giochi inclusivo per i bambini più piccoli e questo diventa un elemento, a mio avviso, un fiore all'occhiello perché possono i bambini normodottati, i bambini in difficoltà giocare insieme e non accorgersi assolutamente le differenze. Quindi ci sono degli strumenti che permettono loro di integrarsi perfettamente e poi abbiamo pensato a tutte quelle persone che vanno liberamente a camminare, potremmo dire a terza età, ma in realtà ci sono anche persone più giovani ed è una palestra con attrezzi all'aperto, quindi sia attrezzi per rinforzare il busto che le gambe, biciclette, eccetera, che permette loro di poter fare il loro percorso e contemporaneamente poi a un certo punto anche fare questo tipo di attività. L'abbiamo posizionato in un posto anche simpatico perché è davanti al panificio e abbiamo messo delle panchine con i pedali, quindi a volte vanno a prendersi il panino e poi dopo tutta l'attività riprendono le calorie che hanno consumato mangiando il panino e pedalando, quindi diventa simpatico. Questo è invece un livello per un'età che va dai 14 anni, ragazzi e ragazze in su e potrebbe essere un elemento di stimolo proprio anche per vivere un'esperienza nuova con i ragazzi e ho visto che a Ferrara l'hanno fatto ed è sempre pieno di ragazzi.